Ciao e benvenuto o benvenuta ad Articoli in Voce. Io sono Cinzia e ogni settimana ti leggerò un articolo tratto dal mio blog che trovi al sito cinziamacchi.it. Buon ascolto! Episodio numero 48 Top Gun Maverick F14 vs F18 Sapete che sono una professionista del settore, ho lavorato diversi anni per velivoli da caccia e sui velivoli da caccia e quindi mi sento molto titolata per esprimere il mio giudizio su un sequel che attendavamo veramente da troppi anni, praticamente 35 anni, ovvero dal 1986 quando uscì il primo Top Gun. Il primo non si scorda mai come si dice in altri contesti e secondo me un po' è così anche per questo film, nonostante le recensioni del secondo Top Gun Maverick siano eccezionali e continuano ad esserlo. Io sono sempre stata innamorata del primo Top Gun che ho visto e rivisto consumando la televisione, il DVD qualunque mezzo lo trasmettesse perché non mi ha mai stufato. Amo la colonna sonora, amo i protagonisti, amo la storia, amo gli aeroplani, per me è il top del film d'azione che ovviamente ha visto partecipare direttamente la Marina degli Stati Uniti. Sappiamo infatti che nell'86 quando è uscito Top Gun questo non era solo un film d'azione ma era un vero e proprio spot sponsorizzato dalla Marina per avvicinare i giovani ovviamente alla Navy e alla pilotaggio di caccia perché sappiamo che la Marina ha in dotazione le porta aerei sulle quali sono imbarcati velivoli come l'F-14 Tomcat. Anche in questo secondo film sicuramente la Marina avrà aiutato il regista e Tom Cruise per le riprese perché come nel vecchio anche nel nuovo Tom Cruise risale a bordo dei caccia. All'epoca gli F-14 e ora gli F-18. La Top Gun sappiamo che è una scuola di volo d'eccellenza dove solo i migliori piloti possono accedere e che forniscono poi delle tattiche avanzate di pilotaggio, di gestione del pericolo, di gestione del rischio. Insomma escono veramente degli assi dei cieli top level che possono poi aiutare le altre forze armate durante i combattimenti. La Tomcat esiste dagli anni Sessanta e ha sede oggi in Nevada mentre all'epoca del primo Top Gun aveva sede a Miramar. La scuola si chiama United States Navy Fighter Weapon School e che i piloti chiamano per farla breve Top Gun. Parliamo ora un attimo dei piloti. Allora innanzitutto Pete Mitchell, quindi Tom Cruise, quindi Maverick, ha ereditato il suo nome da un missile tattico aria superficie. Nonostante in inglese questo significhi cane sciolto, anticonformista in ogni caso. È comunque un nome molto figo da combattimento. E Tom Cruise è un po' un cane sciolto in effetti perché nonostante la bravura, nonostante il talento, la sua veramente essere così portato per un volo istintivo e al limite appunto delle regole, è un po' troppo sul filo del rasoio. Lo sappiamo nel primo faceva la barba alla torre, il cosiddetto Tower Flyby, molte volte faceva incavolare il capo della comunicazione ogni volta, ha preso numerose girate. Ed è per questo infatti che pur essendo il più bravo pilota non era mai il numero uno nella classifica e quindi non era destinato alla Top Gun. Però nel primo film, ovviamente, per aiutare questo pilota a coronare il suo sogno, perché sappiamo che tutti i piloti hanno questo sogno nel cassetto, riesce ad andare alla Top Gun perché il primo in classifica si era ritirato. I piloti sono un po' pazzi, lasciatemelo dire, ma perché chi farebbe delle manovre così pericolose, chi apponterebbe su una porta aerea così con sangue freddo come fanno loro in qualunque condizione, anche col mare non sempre calmo e tranquillo, devono essere un pochino fuori dalle righe, devono essere fuori dal comune, devono essere persone diverse dalle normali, poi è ovvio che abbiano dei tratti da prima donna, da so tutto io, sono il migliore, il più figo, è chiaro, devono essere un pochino pieni di sé, devono essere un pochino immodesti, altrimenti non sarebbero dei piloti di massimo livello. I Top Gun tra l'altro esistono davvero, io ne ho conosciuto qualcuno che è andato proprio alla scuola di Miramar e che appunto ha fatto il pilota collaudatore all'RSV, cioè il reparto sperimentale volo di Roma e che poi è finito in aziende aeronautiche come pilota collaudatore. È chiaro che i piloti hanno anche un lato positivo, non hanno solo un lato tra virgolette negativo da primeggiatori oppure da persone che vogliono sempre essere i più osannati, adorati, perché anche in azienda è un po' così, i piloti sono anche persone che sanno fare squadra, persone che aiutano i propri compagni e quindi non sempre sono degli anti-eroi, anche quelli che in entrambi i film hanno un po' quell'atteggiamento spocchioso, ma si riescono a ridimere dopo un po' nella storia, si trasformano in co-eroi e lo vediamo sia nel primo con Iceman sia nel secondo. Non vi voglio spoilerare troppo ovviamente il secondo film. Chiaramente entrambi i film hanno una storia d'amore, per forza quella ci deve stare perché comunque un po' addolcisce il film, sdrammatizza e poi comunque il pubblico femminile, sì va bene può essere amante di Tom Cruise, amante degli aeroplani, dei bei ragazzi, però insomma una piccola storia d'amore ci sta. Belle entrambe, ovviamente la prima eccezionale secondo me proprio per gli sguardi, gli atteggiamenti di entrambi i protagonisti, Tom Cruise e Kelly McGillis, la seconda tuttavia se meno intensa è comunque molto simpatica perché la Connelly come attrice a me piace moltissimo e quindi merita anche questa parte. Possiamo dire che il film diciamo dell'86 qualcuno l'ha giudicato un pochino lento, ma secondo me paragonato a quest'altro non c'è una grande differenza, anche il secondo dura più di due ore, avrebbero potuto secondo me tagliare qualche scena per renderlo un pochino più vivace, comunque la seconda metà del film diventa molto adrenalinico, molto bello e interessante, vi terrà incollati al sedile come si dice. La colonna sonora che dicevamo all'inizio è uno degli elementi che secondo me ha reso il primo film un mito in assoluto inarrivabile, un po' alla Rocky, un altro film che ha avuto una colonna sonora pazzesca e nonché un successo di botteghino incredibile. Diciamo che la colonna sonora richiama molto la prima, tanto è vero che inizia con la stessa musica, e poi la canzone di Lady Gaga, Hold My Hand, che secondo me era molto bella e è stato uno dei motivi per cui ho detto vada al cinema a vederlo, beh compare purtroppo solo molto avanti nel film, comunque fa da sfondo a una delle scene più romantiche, quindi ci sta. Tornando invece per un attimo al core, diciamo, di questo episodio, nonché del mio articolo, che trovi al mio blog cinziamachi.it slash blog, nelle categorie a ricorrenze, perché appunto riprende un qualcosa di tanti anni fa, parliamo di aeroplani. Vi farò un piccolo escursus sull'F14 Tomcat e sul F18 Super Hornet. Diciamo che i due velivoli non sono di due generazioni diverse, lo sono in parte, perché entrambi ancora velivoli per il dogfight. L'F14 Tomcat non aveva ancora i comandi di volo elettrici, quindi non so se avete notato nella cabina ci sono tutti strumenti analogici, mentre per esempio l'F18 appartiene già, sì possiamo dire, a una generazione successiva, perché le leggi di controllo sono gestite dai computer di bordo. Infatti il fly-by-wire è una tecnologia che l'F18 ha ereditato dal fratello minore, l'F16, e che poi appunto è stata anche trasportata nell'ambito civile, ad esempio l'Airbus A320 è stato il primo aeroplano al mondo ad utilizzare la stessa tecnologia dei caccia americani. Ho scritto un articolo che trovate in cinziamachi.it slash blog nella categoria tecnologia, che parlava appunto delle leggi di controllo. Non vi voglio qui tediare con questo argomento, andate a leggere o ad ascoltare il podcast relativo per un approfondimento. Diciamo che il Super Hornet è una scelta interessante, anche in questo secondo Top Gun molto moderno, perché appunto anche se è stato rinviato di un paio d'anni a causa della pandemia dove uscire nel 2020, effettivamente all'epoca l'F35 o l'F22 c'erano già, non si conoscono ancora benissimo a livello profano, perché come sapete non si può tanto spifferare la tecnologia in rete, perché esiste quello che si chiama reverse engineering, dove le persone sono in grado di risalire diciamo alla tecnologia avendo il prodotto finale, quindi questo è molto importante ecco perché nel film si sono secondo me anche utilizzati aeroplani datati, perché effettivamente l'F18 pur essendo un velivolo moderno è comunque degli anni 90. questa appunto per non rivelare troppo dei nuovi caccia, ad ogni modo mentre questi caccia di quinta generazione appunto come l'F22 e l'F35 sono caccia che non sono stati progettati per il dogfight, in effetti già nemmeno il Rafale o l'Eurofighter, il Typhoon, sono stati progettati per questo, sono dei velivoli invece multiruolo che possono fare un po' tutto, dal bombardiere alla ricognizione all'attacco ad alta quota, l'F18 è ancora un velivolo all'antica da questo punto di vista, quindi simile all'F14, ecco perché in questo film volendo riprendere comunque ancora il vecchio film e tirando in ballo ancora l'F14, il velivolo più adatto a fargli da antagonista oppure da co-protagonista era proprio l'F18, oltretutto i velivoli più moderni sono stati assegnati ai bandit, cioè ai cattivi, un po' come il bellissimo MiG-29 appunto del primo film. Oltre a ciò la scelta dell'F18 e all'epoca appunto dell'F14 dimostra anche quanto nonostante il velivolo possa essere più o meno moderno è il pilota a fare la differenza, infatti vediamo bene che sia nelle primi scene di combattimento che nelle ultime è sempre ovviamente l'aeroplano di categoria inferiore o di generazione precedente ad averla vinta, perché è il pilota in quel caso che essendo Tom Cruise un asso dei cieli, Pete Mitchell, Maverick il miglior pilota del mondo, così appunto è la storia del film, è chiaro che riesce sempre a sconfiggere i nemici e non è il solo, anche gli altri piloti se la cavano. Possiamo dire che se da un lato appunto le leggi di controllo aiutano il pilota a diminuire per esempio il workload, quindi la difficoltà di pilotaggio magari anche quando ci sono delle failure o delle situazioni di emergenza, dall'altra il pilota deve saperlo manovrare, deve saper pilotare con la pancia, perché infatti i G che sente il pilota potrebbero mettere in serio pericolo la sua salute, infatti i piloti si allenano di brutto, hanno veramente una resistenza fisica non indifferente, perché andare a 7G, vuol dire 7 volte il proprio peso, nel film addirittura arrivano quasi a 10, beh è praticamente molto 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 dura a livello fisico. Piccola parentesi su Tom Cruise che a 60 anni, tornando di nuovo a bordo dei caccia, è stato praticamente l'unico attore, anche in questo secondo episodio, a non svenire, mentre tutti i ragazzetti belli palestrati, muscolosissimi, grandi il doppio, beh svenivano tutti. Questa dimostrazione è che Tom Cruise è veramente una persona molto allenata, in effetti è forse uno dei pochi attori che non usa lo stuntman quando gira queste scene, che siano quelle in moto, quelle di Mission Impossible, in tutti i suoi film d'azione. Ricordiamolo, Tom Cruise per quanto mi riguarda è forse il miglior attore d'azione del mondo, lo è da un bel po' di anni, infatti Top Gun l'ha sdoganato, l'ha reso celebre, l'ha veramente portato alla conoscenza di tutti, ma poi è solo andato avanti nella sua carriera, ha fatto tantissimi film, uno più bello degli altri, io quando c'è in televisione lo vedo sempre, perché secondo me è veramente uno dei migliori attori che Hollywood abbia mai prodotto. Nel film ovviamente ci sono anche un pochino, vabbè, di situazioni tirate per i capelli, non ve le voglio spoilerare, quindi ve le lascio vedere, giudicare da voi. Ad ogni modo, un concetto interessante è che si parla del limite strutturale dell'F18, che è di 7G, 7G e mezzo, più o meno come tutti i velivoli da caccia, che però potrebbe durante una certa manovra richiesta essere superato. Allora, innanzitutto questo è un limite, come si dice, di design, cioè è un limite che si consiglia appunto di non superare, ma non è detto che se si superi e di un po' il velivolo si frantumi, anzi in realtà quello che succede quando si superano i G, cioè il grado di accelerazione subita appunto dalla macchina è che la macchina avrà delle deformazioni del metallo, della struttura, permanenti e che quindi probabilmente così com'è non sarà più utilizzabile, ma o vengono sostituite le parti danneggiate oppure direttamente l'aeroplano è da buttare, quindi è un, diciamo, smacco economico più che di sicurezza. È chiaro che non è che si può andare a 20G, però se si supera di 1.5G dovrebbe ancora la struttura tenere, e questo dovrebbe, in realtà, lo si testa in rig, così si chiamano, quindi dei banchi di test particolari dove si fanno appunto le prove statiche appunto che portano la struttura del velivolo particolare, di solito l'attacco alla fusoliera, ai G che si vogliono appunto garantire per il suo utilizzo consueto, costante. Il Super Hornet è la versione ovviamente più moderna dell'F-18, quindi con appunto una serie di bombe e missili attaccate alle ali, ed è uno appunto degli aeroplani più amati da molte persone, molto famoso, quasi al pari del Tomcat, perché ha la caratteristica doppia deriva che lo rende diverso dagli altri, e poi l'abbiamo visto anche in azione in film come Planes, per esempio, infatti io ho un sacco di modelli dell'F-18, tra l'altro anche questi qui di plastica, stupendi. Ho persino un pilota, un pilota che avevo comprato al Bourget, che è un pilota della pattuglia acrobatica americana, che è appunto costituita proprio dagli F-18, ne hanno una con gli F-16 e una con gli F-18. Possiamo dire due parole anche interessanti sul dogfight, perché abbiamo detto che l'F-18 e l'F-14 sono ancora macchine che possono sviluppare questo tipo di combattimento, che ovviamente è molto legato a questo punto alla bravura del pilota, perché lì si va proprio al limite non solo della strategia, della tattica, della tecnica, si va al limite della macchina, al limite della prestazione anche fisica e mentale del pilota. Chi arriva a fare il dogfight è ai massimi livelli, adesso ovviamente se ne vede sempre meno, perché un po' ci sono sicuramente questi aeroplani di quinta generazione che permettono, appunto, lo si vince nel secondo film, di bombardare ad alta quota e poi ovviamente ci sono anche i droni. Ecco, nel film si cita questa possibilità abbastanza vicina nel futuro, in cui appunto la tecnologia sta evolvendo verso queste macchine a pilotaggio remoto, quindi il pilota è dentro in una ground station, tipicamente una specie di container, dove pilota l'aeroplano come se fosse un videogame, quindi realmente con i comandi replicati a terra e pilota direttamente i computer di volo, facendo appunto, riprendendo il suolo, andando a puntare un particolare obiettivo, sganciando il missile quando deve. Ovviamente qui, diciamo, la bravura nel pilota è quella di reggere lo stress emotivo, lo stress psicologico, innanzitutto perché deve stare ore e ore e ore dentro a questo container e deve valutare molto bene la situazione, perché l'ho citato anche in un altro articolo, parlando della guerra, del terrore, del terrorismo, in cui appunto ci sono diversi film, ho citato Good Kill, per esempio, dove si mette molto in evidenza questa cosa degli effetti collaterali, cioè il fatto che un missile, anche se mirato e indirizzato sulla persona, possiamo dire, sul terrorista, sulla casa, eccetera, in maniera precisa e veramente microscopica, possiamo dire, però alla fine se per caso in quella casa arrivassero, che ne so, dei ragazzini, figli, nipoti, eccetera, beh, in quel momento verrebbero esplosi anche loro, quindi gli effetti collaterali sono quelli che devono prevedere tutte quelle situazioni, addirittura nei film fanno vedere delle persone che intervengono in loco per allontanare gli estranei, cioè quelli che non devono essere uccisi insieme invece al target, è veramente incredibile, è molto interessante anche questo mondo. Volevo ricordarvi che anche l'Italia aveva progettato un velivolo simile al Tomcat, il famoso tornado, pane a via tornado, che utilizzava anch'esso un'ala a geometria variabile, praticamente un'ala che cambia la sua forma a seconda della velocità del velivolo. Ad esempio, lo si vede anche nel secondo film, al decollo, l'F14 ha un'ala aperta, perché deve dare maggiore portanza, anzi la più portanza possibile al velivolo, che non avendo i flap, potrebbe far fatica a decollare, soprattutto in una pista cortissima, come quella della porta aerei, quindi la portanza massima aiuta appunto il decollo. Mentre quando raggiunge una velocità quasi supersonica, l'ala viene retratta e assume la caratteristica forma di ala delta, appunto che permette il velivolo supersonico. Il tornado ha un concetto molto simile ed è un aeroplano che ha avuto un discreto successo, io l'ho visto volare dal vivo in qualche air show e effettivamente faceva la sua porca figura, come si dice. Possiamo dire che l'F14 forse è uno dei velivoli appunto talmente amati, uno dei più amati della storia americana, che addirittura ci avevano fatto il giubbotto. Al cinema ho visto qualcuno uscire con quel giubbotto e il mio ex fidanzato all'università l'aveva comprato anche lui, tanto per dirvi quanto è rimasto nel cuore di molte persone. E vi dico questo perché alla fine nel film una delle scene più belle del film è proprio, diciamo, dedicata ancora a un dogfight in cui non è più protagonista l'F18, ma di nuovo l'F14. In futuro che cosa si vedrà? Beh, il futuro, oltre abbiamo detto, ha sicuramente i droni, ci saranno dei velivoli ancora pilotati da esseri umani, diciamo una via di mezzo possiamo dire, in cui l'intelligenza artificiale aiuterà molto di più il governo, si dice così, del velivolo, perché a questo punto tutti i dati dei sensori che verranno acquisiti sempre a più alta velocità, quindi saranno veramente in quantità gigantesca, saranno gestiti appunto da un'intelligenza artificiale che potrà aiutare il pilota a eseguire la manovra perfetta. Per esempio, so che la Turchia, anzi la Turkish Air Space, sta progettando proprio un velivolo di questo tipo. Vi chiederete, ma perché la Turchia si fa un velivolo da sola e non compra un F-35? Beh, perché a causa di acquisti precedenti o di joint venture, chiamiamole così con gli armamenti russi, ebbè non è stata autorizzata dalla Nato ad acquistare l'F-35 probabilmente per problemi di spionaggio a questo punto sia militare che industriale e quindi ha deciso a Erdogan, visto che appunto è tutto forché uno sprovveduto, di costruirsi il suo aeroplano del futuro. Ovviamente non avranno il know-how totale per farselo in casa da soli, però so che stanno collaborando con altre aziende e quindi sono molto curiosa di vedere come andrà a finire. Un paio di parole sugli attori dell'edizione, diciamo, del primo Top Gun e del secondo, di Tom Cruise abbiamo già parlato, forma spettacolare, 60 anni, portati come i 20, sesso fisico, lo vediamo di nuovo, torso nudo, nessuna differenza, qualche ruga in più, ma lo stesso identico fascino. Purtroppo, e mi duoli dirlo, innanzitutto sono contentissima che abbia fatto anche un piccolo cameo, si parla molto di Iceman, quindi di Val Kilmer, che però sappiamo non è stato baciato dalla fortuna, perché a livello fisico ha avuto tantissimi problemi, all'inizio era ingrassato moltissimo, paparazzato, criticato e tutto, e poi gli è stato diagnosticato qualche anno fa un tumore alla gola di cui soffre ancora e infatti pare che non riesca più a parlare. Non ti voglio spoilerare né il ruolo che ha nel film, né il suo cameo recitativo, però ti dico che mi ha veramente un pochino intenerito, perché vedere appunto come qualcuno può essere veramente baciato dalla fortuna, altri no, è un po' un peccato. Comunque, diciamo che Val Kilmer ha avuto anche lui le sue soddisfazioni a livello di carriera. Altra persona che invece è proprio mancata nel sequel è Kelly McGillis, quindi Charlie, che nel primo film ha fatto sognare, io credo, un'intera generazione di ingegneri, pseudo-ingegneri, gente che studiava, gente che si iscriveva all'università, tantissimi mi hanno detto appunto che Top Gun ha ispirato la loro carriera, io sono una di queste per esempio, e sono pure una donna, avrei voluto essere come lei. Io ho intrapreso la carriera di ingegnere aerospaziale, anzi lo studio di queste materie, proprio perché io avrei voluto essere come lei, cioè una donna, quindi vestita da donna, con il tacco, la calza, con la riga, la longhette e tutto, e fare da insegnante ai piloti. E ho rischiato anche tra l'altro di fare questo lavoro, ma poi ho deciso di non farlo. Ad ogni modo anche Kelly McGillis purtroppo è invecchiata, è molto stressata dalla sua vita privata, ha avuto due matrimoni falliti, con figli per fortuna, e poi un coming out nel 2009, e diciamo che appunto in questo momento la sua forma fisica non le ha, così dice lei, permesso di poter accedere anche al secolo, e su questo io non faccio commenti. Chiudo con un excursus invece su piloti e ingegneri a confronto, possiamo dire così. Sappiamo che l'ingegnere aeronautico e il pilota sono due facce della stessa medaglia. Entrambi devono essere presenti e collaborare in maniera veramente molto virtuosa per portare il design appunto di un velivolo all'apice. Nessuno può fare almeno dell'altro, l'ingegnere può avere sì tutta la teoria che vuole, tutto lo styling del progetto, può avere le sue fisse e deve averle per la sicurezza, sia per il pilota che per la macchina, deve sottostare a certi appunto processi quali la famosa V&V, cioè validation e verification, con tutti gli step, quindi ci sono diversi passaggi che possono anche un po' annoiare i piloti, perché sappiamo che i piloti detestano stare al simulatore, detestano stare a terra, fare i briefing, loro vogliono solo volare. I piloti sono felici solo quando sono in cielo, e questo io lo so, perché ho avuto esperienze dirette, cioè di amici, di piloti, che anche dopo incidenti non sono riusciti a stare a terra, perché non si sentono, si sentono quasi zoppi, e allora magari possono cambiare un po' la carriera, c'è chi dai velivoli da caccia si mette a pilotare i cargo, tipicamente i C-27J, i 6 in Italia, i C-130 in America, oppure va a lavorare per le compagnie aeree, quindi diventa un pilota civile abbandonando la carriera militare, oppure infine può entrare sempre abbandonando la carriera militare in un'azienda aeronautica a fare pilota collaudatori. Io ne ho conosciuti diversi, e quelli che vengono appunto dal militare hanno veramente un qualcosa in più. A livello proprio di generosità, di approccio, anche di spiegazioni, mi sono molto trovata, sempre trovata molto bene con questo tipo di piloti per collaborare. Possiamo dire che i piloti riescono a fare squadra molto meglio di come riusciamo a farla a noi ingegneri, perché anche nei film si vede quando giocano a beach volley, quando giocano a rugby sulla spiaggia, beh, sono persone che all'inizio sembrano essere in competizione tra di loro, sì, e la sana competizione fa bene, ma quando conta loro fanno squadra, loro riescono a praticamente sacrificarsi gli uni per gli altri. Questo sarebbe bellissimo vedere in azienda, purtroppo forse sono io che pretendo l'impossibile, chissà che un giorno non succeda. L'ultimissima cosa è che esiste, diciamo, anche una ragazza nel secondo film, presso la Top Gun, una giovane pilota molto in gamba, e questo mi ha fatto molto piacere, è stata una scelta intelligente da parte del regista, perché esistono veramente delle donne che sono assi dei cieli, io ne ho conosciuta qualcuna, persone incredibili, con un carattere pazzesco, sogno fin da quando avevano cinque anni di pilotare un velivolo da caccia, e fortunate e brave che ci arrivano. I protégé, io uso questo termine un pochino più elegante, chi non sa cosa vuol dire, lo vado a cercare, per parlare di raccomandazione, il mondo dell'aeronautica, come anche il mondo della marina, o comunque già quello delle forze armate, ma in particolare questi, sono mondi un pochino, diciamo, dove non tutti riescono a fare carriera, se hai un parente in una forza armata, e meglio, vengono messi in evidenza appunto a volte dei candidati che a parità, possiamo dire, di competenze, la vincono appunto su altri che non sono imparentati con qualcuno. Questo si purtroppo applica anche all'industria aeronautica, perché comunque di stampo militare, quindi anche se magari non è presente un generale fisicamente in azienda, comunque si tende un po' a privilegiare gli appartenenti a una certa casta, e con questo chiudo. Io vi dico che il film, il secondo, mi è piaciuto, ma ripeto, ho preferito il primo, e nonostante sia ancora molto legato agli Stati Uniti, non mi ha riappacificato con questa superpotenza, che da quando è scoppiata la guerra, insomma, mi è caduta un pochino, diciamo, mi si è tolta un po' dal cuore, io amavo gli Stati Uniti, e a vent'anni fa ci sarei andata a vivere immediatamente, ora forse no, e non stimo molto come stanno gestendo appunto la situazione, sembra sempre che vogliono affossare l'Europa, discapito appunto, invece, non dico per proteggersi e basta, sì, non vogliono appunto che l'Europa si intrometta tra gli Stati Uniti e la Cina, tra gli Stati Uniti e la Russia, quindi questo modus operandi non mi fa impazzire, e nonostante ciò, appunto, anche questo film non mi ha riavvicinato. Io spero che questo episodio ti sia piaciuto e che tu lo condivida con chi è appassionato ovviamente di Top Gun, di Aeroplani, ma anche di Tom Cruise, e ti do ovviamente appuntamento al prossimo episodio, infine, ti ricordo di leggere il mio articolo perché racconta in maniera un pochino più strutturata quello che ho appena detto qui, e quindi lo trovi sempre cinziamachi.it slash blog nella categoria ricorrenze. Ora ti saluto davvero, alla prossima, ciao ciao da Cinzia!